Siringhe per terra dove giocano i bambini e passeggiano le famiglie. Accade a Bassano del Grappa dove un nostro telespettatore si è accorto che fra la strada e il muretto di una casa sono state abbandonate delle siringhe usate. Siamo in via Zancon a due passi dal distaccamento di vigili del fuoco e dalla chiesa di San Leopoldo in un'area densamente abitata e molto frequentata. Non è dato sapere di che materiale sanitario si tratti, quel che è certo è che un bambino che stava giocando con gli amichetti è caduto per terra e ha sfiorato con le siringhe di pochi centimetri. Sconvolto per quello che sarebbe potuto accadere se il piccolo si fosse punto il nostro telespettatore ha deciso di portare questa situazione all'attenzione dell'opinione pubblica e ha chiamato Rete Veneta e noi come sempre facciamo in questi casi raccogliamo la segnalazione e la giriamo alle autorità per capire cosa sia stato fatto per evitare simili rischi.